Ciao a tutti amici e ben ritrovati, oggi parliamo di BMW perché nei forum e su Instagram nelle pagine dedicate al marchio di Monaco sono apparse questa mattina due set fotografici di due vetture che fanno parte di una famiglia simile ma sono completamente diverse la prima e quella più goduriosa è la serie 2 Coupé, il nuovo modello che sarà basato esattamente sulla piattaforma del modello precedente quindi quella con il motore longitudinale e la trazione posteriore e poi abbiamo visto anche la nuova serie 1 4 porte quindi quella a tre volumi che sembra almeno da quelle foto dedicata per il momento solamente al mercato cinese poi vi spiego anche il motivo ma partiamo dalla nuova serie 2 che è sicuramente il pezzo forte di queste scoperte di questa mattina quindi stessa piattaforma, motore longitudinale quindi montato giusto in vera tradizione BMW quindi dritto in più trazione posteriore volendo sarà anche X-Drive in base ai modelli ma quello che importa di questa macchina appunto è che sarà di base trazione posteriore, avrà un bilanciamento dei pesi praticamente perfetto non avrà certamente l'abitabilità della nuova serie 1 e della serie 2 Gran Coupé ma di fatto è una macchina che fa godere gli appassionati proprio in virtù del fatto che non solo è Coupé, non solo è compatta ma allo stesso tempo è trazione posteriore in più può avere anche delle cavallerie che sono veramente importanti con tutto che si parte dalla base, dai tre cilindri che sono motori che comunque sono sostanzialmente una frazione dei sei cilindri, sono tecnologicamente molto avanzati sono fatti davvero molto bene, sono leggeri per cui anche a fronte di potenze molto contenute riescono ad offrire performance alla macchina abbastanza interessanti, con questo però appunto la precedente generazione, ci rifacciamo poi i numeri precedenti perché poi bisognerà vedere BMW cosa farà realmente su questa nuova gamma che forse tendrà a essere un filino più specialistica rispetto a quella precedente, appunto parte dai 136, anzi partiva dai 136 cavalli del 1500 tre cilindri arrivava poi ai 184 cavalli della 220i col motore 4 cilindri, già qui iniziamo ad avere un motorino secondo me che è un giusto rapporto tra la potenza, il costo e anche la caratteristica di architettura del motore stesso e poi arriviamo anche qui sempre col 4 cilindri, motorizzazione interessante a 185 kg siamo proprio a filo a filo del superbollo, non credo che lo paghi, penso che siamo proprio dentro per un millimetro 46.900 euro al riprezzo della macchina, 230 IM Sport appunto con una velocità massima di 250 km all'ora e 1430 kg di peso per cui sicuramente la macchina è interessante per quanto riguarda le prestazioni e chiaramente è capace grazie al motore notevole direi per prestazione appunto di assicurare anche tutto quello che serve a una vettura di questo genere, si sale, qui entriamo nel vero mondo BMW col 6 cilindri in linea della M240i il 40i è veramente un bel motorino perché ha 340 cavalli, anche qui velocità limitata a 250 km all'ora poi basta sbloccarla, però ha la coppia di 500 Nm quindi spinge forte questa motorizzazione si può avere solo con la trazione posteriore ma anche X-Drive con una differenza di prezzo di circa 2000 euro secondo me questa è certamente una bella motorizzazione, chiaramente io la prenderei solo trazione posteriore ma anche l'X-Drive per come funziona l'X-Drive in casa BMW è sicuramente qualcosa di molto interessante poi si sale e si va all'M2 che è chiaramente il modello piuttosto di questa gamma ma è molto bella da guidare la M2 come rapporto tra peso, prestazione, comfort di bordo, qualità interna ha veramente delle belle caratteristiche, arriva dove inizia la M4 sostanzialmente dove iniziano poi le X-M3 dove inizia appunto la M4 con questa M2 Competition che può avere anche il cambio di KG quindi è una vettura anche dotata volendo della doppia frizione con 411 cavalli peccato sia improponibile sostanzialmente in Italia, si pagano dei superbolli fotonici su queste macchine con 550 Nm di coppia massima, chiaramente chi ha qualche soldino in più fa bene a comprarla fa bene a pagarci il bollo sopra perché si diverte ma di fatto è una macchina che forse spinge chi ha questo soldino in più a investirlo sulla nuova M4 piuttosto che rimanere confinato sulla M2 se non ci fosse superbollo sicuramente queste macchine avrebbero un range d'azione decisamente diverso andiamo poi invece qui diesel si parte dal 218D, parlo sempre della precedente gamma 150 cavalli e poi 190 cavalli e poi si arrivava a 224 cavalli sempre con motorizzazioni 4 cilindri non c'è 6 cilindri gasolio peccato perché è un motore super super fotonico detto questo la serie 2 coupé ha uno sguardo un pochino più ammicante ha una zona posteriore disegnata in modo decisamente più moderno con un led inglobato all'interno di un faro più rettangolare rispetto a quello precedente e devo dire che la macchina almeno da quello che si vede chiaramente all'interno di questo carrello elevatore perché le macchine, le foto sono chiaramente rubacchiate da qualcuno che evidentemente stava trasportando la macchina da una parte all'altra comunque di fatto si vede come non ci sia lo stile almeno sempre che questo sia il modello definitivo si vede come non ci sia lo stile della M4 in particolar modo dietro devo dire che sono rimasti abbastanza conservativi quindi da un lato con questa macchina vogliono andare ancora all'attacco del mercato americano ma vogliono continuare ad avere una proposta BMW vera con tecnica vera, con trazione posteriore, con motore longitudinale anche nel contesto di una gamma di piccole BMW quindi serie 1, serie 1 Grand Coupé, anzi serie 2 Grand Coupé le serie 2 monovolume, le X2 eccetera eccetera mille mini, tutte queste macchine che sfruttano la piattaforma FAR quindi la Front and Trip Architecture proprio per spalmare i costi tra diversi modelli portare in un contesto di mercato dove non è importante avere la trazione posteriore un sacco di tecnologie che possono appunto essere condivise tra vari modelli sviluppate meglio e chiaramente anche essere più in linea con quelle che sono le esigenze di un mercato che cerca quella tipologia di vettura esiste un'altra fetta di mercato che è quella degli appassionati che invece cercano le macchine che sono fatte come questa serie 2 BMW fa benissimo a dare questa risposta con questa Coupé con la trazione posteriore e motore longitudinale che continuerà a far godere gli appassionati per cui esattamente come fa Porsche che alla comparsa dei Turbo tutti si erano scandalizzati per il fatto che sarebbero spariti gli aspirati beh sul GT3 ad esempio l'aspirato continua ad esserci e continua ad esserci anche sul GT4 sulla 718 Spyder e arriverà ancora su altri modelli in futuro per cui sì le case tedesche spingono per fare mettiamola così delle condivisioni molto forti delle loro piattaforme nella parte bassa e nella parte alta BMW ad esempio la 2 alla FAR e la CLAR ma all'interno di questi modus operandi delle aziende che sono nuovi e si contestualizzano nel mercato dell'auto di oggi cercano di iniettare comunque delle dosi di passione esattamente come questa nuova serie 2 che per almeno un'altra generazione andrà avanti magari con il supporto di più elettricità magari con il supporto di più tecnologia ma di base la meccanica rimarrà molto simile per non dire identica a quella del passato detto questo passiamo dopo questo momento godereccio passiamo invece alla serie 1 con la trazione anteriore e il motore trasversale la nuova piattaforma FAR nasce anche per i mercati cinesi tanto è vero che esistono delle vetture che non sono BMW e che utilizzano questa piattaforma in Cina ha un accordo commerciale con Brilliance da sempre praticamente la BMW e produrranno per questo mercato la serie 1 tre volumi ve lo dico perché si vede il badge a lato di quello con la sigla del modello si vede proprio la scritta cinese per cui si capisce essere una vettura che nasce per quel mercato non sappiamo ancora se arriverà anche in Europa anche se a tre sportback scusate a tre sedan e classe A sedan comunque continuano a spingere anche su questo mercato di quella vettura probabilmente arriverà anche una variante a passo lungo visto che i cinesi amano e adorano le varianti anche delle piccole tra virgolette limousine quindi col passo lungo tanto è vero che ad esempio anche la classe A sedan in Cina esiste con un passo decisamente più lungo che è lo stesso della GLB quindi la GLB che vediamo il SUV che vediamo qui in Europa è esattamente basato sulla declinazione di piattaforma MFA2 di cui è dotata la classe A sedan passo lungo in Cina con questo tutte le gambe motori in particolar modo ovviamente di benzina perché non credo che in Cina spingano sui diesel arriveranno sotto al cofano di questa serie 1 non credo ci sarà la variante più potente anche se perché no potrebbero farla quella da 306 cavalli chiaramente questa vettura se arriverà nel mercato europeo dovrà puntare anche sui motori a gasolio che fanno parte della gamma motori di serie 1 tradizionale quella a 5 porte e fanno parte anche i diesel della gamma della serie 2 Gran Coupé che altro non è appunto che la serie 1 con la linea posteriore fastback almeno così la chiamano gli inglesi detto questo direi di concludere fatemi sapere cosa ne pensate in particolar modo della serie 2 Gran Coupé anzi non quella Coupé della serie 2 Coupé è quella vera appunto con la trazione posteriore fatemi sapere anche cosa ne pensate se vi piace la forma della serie 1 ormai mi confondo anche io con i nomi dei modelli con la serie 1 Sedan che appunto sarà per il mercato cinese fatemi sapere magari la volete anche voi sul mercato italiano e magari comunichiamo già a BMW il fatto che voi siete interessati a questo modello e magari decidono perché no di importarlo con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare su Youtube su Facebook naturalmente su Automoto.it viva la persona per l'auto e full gas così sempre ciao